Non posso sottrarmi alla denuncia, devono sapere che io svolgerò regolarmente il mio servizio secondo il mio dovere di assistente sociale. Sono le parole consegnate dalla dipendente del comune di Margherita di Savoia e Valentina Carone al sindaco Bernardo Lodispoto nel corso di una telefonata avvenuta ieri mattina, dopo il secondo attacco incendiario subito nell'arco di poco più di un anno. Nella tarda serata di sabato scorso l'auto dell'assistente sociale a servizio del comune Ofantino è stata avvolta dalle fiamme mentre era parcheggiata a succorso Vittorio Emanuele II a ridosso del centro cittadino. Il rogo sulla cui natura indagano i carabinieri non ha provocato feriti né dadeggiato altri mezzi. Utili agli accertamenti investigativi saranno le immagini registrate dai circuiti di videosorveglianza della zona. Il sindaco a nome di tutta la giunta del Consiglio Comunale ha rivolto alla professionista la massima solidarietà e l'incondizionato apprezzamento per il suo lavoro. Siamo di fronte al riproporsi di gesti inaccettabili che vanno a colpire un settore di per sé molto esposto come il sociale ma che non ci farà arretrare di un solo passo, ha detto lo dispoto. Da parte della nostra amministrazione c'è il totale sostegno per il lavoro svolto con grande professionalità dalla dottoressa Carone che io personalmente ho voluto assumere a tempo indeterminato come assistente sociale del comune proprio per come svolge il suo lavoro. Le sue relazioni, ha chiarito il sindaco, sono una rappresentazione oggettiva di fatti e circostanze e non è tollerabile che si venga colpiti per aver tutelato gli interessi legittimi dei più fragili. Il primo cittadino ha spiegato che quello vissuto è un contesto sociale particolare e talvolta pericoloso ma la dottoressa non per questo si sottrae i doveri d'ufficio e a quello che obiettivamente deve relazionare per alcune situazioni di alcuni nuclei familiari. Quanto le è accaduto è un fatto grave ma sono certo, ha concluso, che la nostra assistente sociale non si farà intimidire da questi atti vergognosi e reiterati.